good morning ragazzi benvenuti in questa nuova video lezione del prof betti oggi vi parlerò delle crociate cioè delle guerre sante che diciamo caratterizzarono il periodo che va più o meno dall'anno 1000 al 1270 e all'interno del di questo video sulle crociate vi parlerò anche della reconquista bene come sempre preparo powerpoint e cominciamo con la lezione iniziamo questa video lezione vedendo un po come era formato il mondo islamico intorno all'undicesimo secolo quindi circa verso l'anno 1000 da un punto di vista proprio politico diciamo era diviso in tre califati principali uno era il califato di bagdad che come vedete da questa cartina comprendeva tutta la zona dell'asia nella parte della turchia iran e poi andava verso l'india poi abbiamo quello del cairo che invece comprendeva il nord africa e parte della penisola araba e poi il califato di cordova che comprendeva una metà circa della spagna e poi anche qui una zona del nord africa questo califato in particolare quello di bagdad era diciamo il più recente ed era quello formato da un popolo guerriero che si era affermato in questo periodo e cioè quello dei turchi selgiuhidi che riuscirono a conquistare ampie zone di territorio ai danni soprattutto dell'impero persiano questi turchi furono veramente molto temuti in occidente e in particolare dall'impero bizantino infatti ci furono dure battaglie tra l'impero bizantino e i turchi selgiuhidi che tra l'altro videro in alcune occasioni vincere i turchi in particolare in una battaglia piuttosto importante che si combatte nel 1071 ma visto che l'argomento principale di oggi sono le guerre sante cominciamo parlando della reconquista verso l'anno 1000 gli arabi a parte diciamo i turchi selgiuhidi stavano iniziando a indebolirsi mentre come abbiamo visto invece nelle elezioni precedenti l'europa cristiana era in netta ripresa i commerci stavano aumentando la popolazione stava crescendo e quindi eravamo in una situazione piuttosto positiva per quanto riguarda gli europei tra i tre califati cui vi ho parlato in precedenza quello più debole era sicuramente il califato di cordova e per questo motivo iniziò quella che gli spagnoli chiamarono reconquista cioè la ripresa diciamo dei territori arabi da parte degli europei che si consideravano appunto cristiani cattolici c'erano alcuni regni in spagna come vedete il regno di castiglia leone il regno di navarra il regno di aragona e la contea di barcellona questi quattro regni erano tutti cattolici e si coalizzarono per attaccare i mori i mori erano il nome che avevano dato gli spagnoli agli arabi e derivava ovviamente dalla loro carnagione leggermente scura questa guerra di reconquista venne considerata una guerra santa quindi una guerra religiosa e il papa per aiutare gli spagnoli in questa guerra promise a tutti coloro che avrebbero partecipato come soldati la remissione dei peccati quindi tutte le persone che avessero combattuto questa guerra sarebbero andate in paradiso e diciamo tutti i peccati che avevano commesso sarebbero stati cancellati questo ovviamente lo fece per invogliare diciamo gli europei a partecipare e questa diciamo questa cosa ebbe grande successo in realtà comunque la riconquista fu un fenomeno diciamo di lunga durata infatti durò fino al quindicesimo secolo quindi verso la fine del 1400 si arrivò alla conquista totale della spagna l'ultimo regno che era rimasto in mano agli arabi era il regno di granada nel sud della spagna che fu appunto l'ultimo a cadere sotto i colpi dei cristiani l'altro tipo di guerra santa è quella più famosa e cioè le crociate che cosa successe ad oriente l'imperatore bizantino che è sempre in grande difficoltà lo abbiamo visto chiamare addirittura anche venezia alessio comneno chiese aiuto al papa per combattere proprio contro i turchi selgio chiedi allora il papa in effetti lanciò quella che è considerata la prima crociata per combattere contro i turchi e riconquistare in particolare la città di gerusalemme questo perché la città di gerusalemme era una città santa per i cristiani e da un po di tempo i pellegrini che si recavano là per andare a visitare i luoghi dove aveva vissuto cristo erano stati attaccati qualche volta dai turchi o almeno c'era questa leggenda non si sa se è vero però diciamo l'unione di questa leggenda alla richiesta di aiuto dell'imperatore bizantino fece sì che il papa urbano secondo lanciò nel 1095 questa crociata come vedete un simbolo importante della crociata era proprio la croce che venne messa sulle bandiere sugli scudi sulle spade insomma un po ovunque e solitamente il simbolo è proprio una croce rossa su sfondo bianco la prima crociata non fu una crociata vera e propria infatti non è considerato ufficialmente tale ma diciamo esaltati dalla chiamata alle armi del papa un gruppo di poveri guidati da questo santone diciamo di nome pietro l'eremita partì alla volta dell'imperatore bizantino per combattere contro i turchi questo gruppo di poveri era mal addestrato non erano abituati alla guerra ed infatti appena arrivarono a combattere veramente contro i turchi furono facilmente sconfitti e praticamente tutti vennero uccisi arriviamo a quelle che consideriamo le crociate vere e proprie la prima crociata ufficiale fu del 1096 ed è considerata la crociata dei nobili dopo quella dei poveri che appunto aveva avuto scarsissimo successo diciamo la prima crociata ufficiale fu organizzata da un gruppo di nobili guidati da goffredo di buglione un signore un lord francese che riuscì ad arrivare fino in turchia e nel 1099 sconfisse i turchi e riuscì a creare un regno a gerusalemme dove lui fu appunto il fu colui che gestiva questo regno in realtà però questa conquista durò poco infatti verso il 1187 questo regno cristiano che aveva avuto tanti attacchi in continuazione dai turchi quindi ebbe vita molto difficile alla fine nel 1187 i turchi riuscirono a recuperarlo grazie soprattutto a un condottiero che è diventato molto famoso e cioè il sultano saladino che riuscì a cacciare appunto gli europei da gerusalemme in realtà la crociata del 1096 non fu l'unica infatti in totale le crociate furono addirittura otto e l'ultima si combatté nel 1270 in tutti questi casi il fu il papa diciamo il promotore che prometteva il paradiso e la vita eterna a tutti coloro che avrebbero combattuto in queste battaglie e in queste crociate parteciparono moltissimi re alcuni anche molto famosi come per esempio federico barbarossa e riccardo cordileone bene come sempre spero che questa video lezione vi sia piaciuta e ci vediamo in classe grazie